buongiorno ciao vale ciao a tutti ciao a tutte ciao a chiunque ciao a tutti allora che si dice si bri oggi io volevo provare così al naturale giusto per risparmiare un po' sulla bolletta perché effettivamente con questa inquadratura posso farlo con le altre che avevo prima mi dava dei problemi quindi voglio vedere dimmi anche tu che ne pensi ovviamente bri perché sai quanto io tengo in considerazione il tuo punto di vista mai tanto quanto quello di franzine che ho il piacere di leggere in chat vediamo cosa dice lei che tra l'altro è un po' un ritorno se ci pensate un ritorno alle origini perché inizialmente non avevo le luci quindi non potevo fare a meno di trasmettere al naturale adesso ovviamente una luce ce l'ho lì di fianco addirittura che luminoso scrive Andrea ciao Conci ciao Peppone Peppone io non capisco per quale motivo non vedo lo stemma fondatore di fianco al tuo nome anche se te l'ho dato cioè te l'ho assolutamente dato sei il decimo minimo fondatore di questa community allora l'avevi comprato con i primi abbonamenti con i primi soldini che avevo guadagnato che avevo rubato dalle vostre tasche sto guidando se sbattomi in cazzo vedo nelle impostazioni che un'ora sto piangendo no ma tu non devi vedere niente Peppone è una cosa che devo vedere solo io però l'ho già fatta gestione dei ruoli no dove cavolo era mi dimentico sempre informazioni dettagliate qualcuno o qualcosa fa di tutto per tenerci lontani Peppone io ti voglio avvicinare il più possibile con lo stemma abbonato stemma fondatore e voglio che tutti lo sappiano invece a quanto pare basta non so più dove non mi ricordo più dove si fa abbonato abbonati vedi dettagli fondatore eccoti ti ho aggiunto il 4 novembre Peppe Giogli sei tu questo Peppe Giogli fammi controllare quest'immagine profilo si Peppone non so perché vabbè comunque sappi che sei fondatore ufficialmente nel mio cuore sei e sarai per sempre fondatore nel mio cuore e nei miei piedi ciao il Martuz dva conci l'ho già salutata ma la risaluto Pasqu basta quanta gente oh Peppone grazie mille eccoti Peppone ecco che ora sei il number one cazzo ecco cosa mancava i soldi giustamente grande Peppone che finalmente è arrivato in famiglia alla top top del top dell'over the top Peppone grazie Peppone grazie di esistere grazie di esistere fa un culo la stella di Sailor Moon mi piace la facilità con cui sputi nel piatto dove hai mangiato fino all'altro ieri ma va bene così grazie a tutti grazie a tutti quelli che hanno creduto in me Poggi ieri stavo montando l'enne per l'ennesima volta il video di Novara e è sempre bello vederti cantare la parte in falsetto quella femminile del Matador la cantavi meglio di me ti avrei dovuto far salire sul palco c'è un momento in cui proprio ti metti così Matador Matador ho adorato veramente ho veramente adorato dico la verità ciao Twitch ho scopato anche grazie a te what? ah ma tra l'altro oggi lo sapevate che è la giornata mondiale dei single perché l'1-1-11 l'ho scoperto non mi ricordo da dove l'ho scoperto appena entrata in casa che cazzo stavo ascoltando appena entrata in casa ah me l'ha detto Alexa sono entrata in casa gli ho detto Alexa buongiorno e lei mi ha detto buongiorno in questa giornata dei dei single ah vedi Ores cazzo ormai siamo tutti omologati siamo tutti fidanzati tra di noi e che è una mucchiata questa doveva essere una community è diventata un orge tranne io che sono fidanzato con Mutimbi ovviamente ah fidanzato e fedele fedelissimo non avevi appena detto che forse non potevi venire ma lasciagli vivere la sua vita Valerio lasciagli vivere la sua vita quanti di voi in chat sono single sono singoli così Valerio si occuperà di farvi gli auguri oggi o siamo tutti quanti sposati come Francine e cosa si fa nella giornata dei single ma credo si pianga più o meno si dovrebbe fare del solito io mi sposo tra un annetto uh Valerio segnati la data dobbiamo fare gli auguri adesso Valerio ti userò con me agenda di voi da poco ok quindi auguri di voi un altro motivo per festeggiare e il machico auguri fidanzato con due figli ammazzate proprio sei andato ben oltre non ti sei risparmiato Jamie Roy auguri anche a te pochi altri c'è sono nella parte della mia vita in cui non sono single stranamente eh poi interessante anche questo effettivamente capire quanto tempo di media si passa abbiamo passato da single piuttosto che accompagnati come direbbe mia nonna perché questa è anche una cosa interessante c'è gente che praticamente non è mai stata sola io ho appena fatto sette anni what the fuck sette anni non ci sono mai arrivato nemmeno da lontano auguri a tutti è un po' fidanzato con il remu buongiorno a tutti buongiorno fratello buongiorno fratello di katie buongiorno stavo pensando anche a lei fratello di katie riguardando le riprese di novara prima mi sono complimentato con poggi che faceva un lip sync perfetto delle mie canzoni però devo dire che ho anche ammirato il momento in cui ti sei messo in ginocchio col telefono per fare una ripresa e c'è troppa troppa professionalità veramente c'era poggi teatrale da un lato tu fotografo un po' fabrizio corona di fianco e in mezzo c'era brinuccia che non faceva niente ascoltava le canzoni canticchiava giustamente era quella che se la viveva con un po' meno eccesso di pathos quindi ho veramente apprezzato il trittico vi devo mandare vi dovrò mandare qualcosa dei frame di quei video perché sono meravigliosi si si è proprio così c'è poggi di katie e tu meraviglioso io non ho passato quasi nulla da single eccola qua però tu perché sei stata fidanzata con la stessa persona dal giorno 1 se ti servono due dritte per le canzoni nuove fammi un fischio assolutamente sì penso che sia un fenomeno la prima volta che ho sentito il mago qualche anno fa ah ma voi sentite la musica troppo alta ditemi perché io non riesco mai a regolarmi di solito lascio ecco a 30 a parte che adesso apriamo ascoltamini c'è gente che deve proporre musica oggi giusto per sapere la prima volta che ho sentito il mago qualche anno fa e dagli ho ascoltato tutti i tuoi album confronto con mio fratello è dietro perfettamente immobile ah giusto giusto quindi era di famiglia è proprio lo stile di famiglia Brino l'immobilismo una corrente di pensiero c'è Nick ok Raffa che ora siamo un quarto perfetto allora chi vuole farmi ascoltare musica deve entrare nel discord e metterla in ascoltamini che è attualmente ancora invisibile ma sto per togliere dall'invisibilità tra pochissimi secondi e voilà mantello dell'invisibilità tolto quindi adesso chi posta musica in ascoltamini andando in ordine ce l'ascoltiamo e vi dico cosa ne penso cosa non ne penso fate con un comodo nel frattempo noi chiacchieriamo purtroppo sono da cellulare e non ho discord aiaiaia aurora ti devi aggiornare però scusa se vuoi far parte di questa community è gratis discord cioè tutto quello che vedi quasi tutto è gratis quindi non non hai scuse e c'è per telefono chi vuole discord ascoltamini vedo già sergio007 peppe jolly dannazione devo preparare più tè per ascoltare la canzone di peppe jolly uno con una pentola allora andiamo subito con sergio 007 ovvero sia il sep prima stop ok sergio007 ma chiunque se avete cose da dirmi riguardo questa canzone prima di ascoltarla ditemelo pure se volete fare un cappello introduttivo se c'è qualcosa a cui devo fare particolarmente attenzione sentitevi pure liberi di dirmi qualsiasi cosa tra l'altro sergio tu dove sei in chat che qua avete un nome da una parte e un nome da un'altra fammi capire chi sei qui in chat è orso borso i biscotti ci sono però serve il tempismo giusto perché di solito me li mangio ciao stefano ma non ho capito quindi sergio007 chi è qui in chat sergio batte un colpo sergio sergio è tre sergio è due sergio è uno sergio passo oltre poi mi dirà eventualmente quindi qui abbiamo peppe jolly il magico peppe jolly cavolo peppone tu peppone mi vuoi dire qualcosa su questa canzone devo stare attento a qualcosa oltre a cercare di capire quello che dici che l'ultima volta non è stato proprio semplicissimo dimmi se mi vuoi dare qualche indicazione in particolare senti e apri che forse era meglio un feat va bene ma io non ho capito comunque sergio ha postato la canzone e poi se n'è andato è spatriato sergio non si fa così però vediamo ah eccoti mi si era disconnesso va bene poi ti ascoltiamo mi si era disconnesso dalla chat comunque una canzone prodotta da te spero possa piacerti anche il video è fatto da me con un mio amico come cameraman ok ok allora intanto ascoltiamo il buon Peppe Giolli anzi vi condivido anche lo schermino ok dopodiché torniamo da SEP vediamo Peppone che cosa ci ha combinato che c'è che c'è Grazie. 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 Me l'avevi già fatta ascoltare questa, o mi sbaglio? Me l'avevi mandata in privato? Perché mi suona familiare. Sì, ma prima faceva cagare. Grazie per mandarmi le versioni che fanno cagare. Allora, che ti posso dire su questa canzone, Peppone? Innanzitutto ti ringrazio per aver parlato un italiano comprensibile, non come quella canzone che mi avevi mandato. Tu sai a quale mi riferisco, perché ti ho detto che non si capiva un cazzo. Qui sento di darti più un parere veramente molto personale, cioè ancora più personale di qualsiasi parere che ti possa dare. È una canzone show-off che non mi lascia assolutamente niente. Nel senso che già lo show-off lascia il tempo che trova. Cioè, nel senso, vabbè, sei il più grande di tutti, cioè il cazzo più grosso, ok, vabbè. Cioè, l'abbiamo detto tutti, quindi a una certa non ci crede più nessuno. Sicuramente la cosa difficile quando fai show-off è farlo in una maniera originale, proprio perché l'hanno fatto tutti, proprio perché alla fine della fiera sai che sono solo chiacchiere di solito, a meno che tu non sia un criminale, a meno che tu non sia, boh, non lo so, Eminem. Ma pure se lo fa Eminem, cioè, a me cascano un po' le palle se non fa qualcosa di eccezionale. Quindi, diciamo, è una canzone di cui tendenzialmente io non mi ricorderò mai, ma proprio assolutamente mai, perché è l'ennesima canzone in cui ti fai una sega davanti allo specchio. Non tu in particolare, perché non sto dicendo che siano tutte così. È l'ennesima canzone in cui un tu ipotetico fa una cosa che già molti altri hanno fatto. Quindi, diciamo, dal punto di vista artistico io non ci trovo niente di interessante. Dal punto di vista tecnico è pulito, che, voglio dire, è oro, comunque. Nel periodo in cui viviamo è oro il fatto che sia pulito, metriche pulite, tutto in timing giusto, tutto fatto bene, scandito. Cioè, quindi, diciamo, a livello tecnico è una roba che fa il suo, su questo tipo di produzione, su questo tipo di vibe. E a livello di concetto non c'è. Se devi fare show off, devi fare molto meglio per impressionare me. Poi, non so, ti girerei anche la domanda. A te impressionerebbe questa canzone? Cioè, nel senso, è una canzone di cui secondo te ti ricorderesti, ascoltandola da qualcun altro? Perché anche questo è interessante. Perché magari abbiamo due metri di giudizio diversi, abbiamo sicuramente sentito delle canzoni diverse nel tempo. E quindi, magari per te questa c'ha un valore che per me non c'ha, perché ho dieci anni, non so quanti. Più di te, eh, so dieci anni che sento ste cose, più di te. Quindi, anche questo va messo in conto, eh. Ok, allora, io nel frattempo aspetto Peppone che mi risponda. Tra l'altro, ho finalmente attivato, lo dico innanzitutto, iMood. Ho attivato il bot di Telegram, quindi dopo dobbiamo fare dei test tra di noi, però potremmo anche attivare la possibilità di mandare vocali durante le live. In modo che non dovete sempre stare lì a rincorrermi con la tastiera, perché se no non arrivate mai. Allora, Peppone, sono curioso di sapere se stai rispondendo, perché non mi vorrei perdere la tua risposta, anche perché mi intriga la cosa. E vorrei effettivamente capire la percezione che hai della tua stessa canzone, perché questo è importante. Cioè, io, ad esempio, su alcune mie canzoni, tipo La La La, ormai so che è una canzone che non serve un cazzo. Cioè, nel senso, l'ho scritta senza motivo, perché volevo scrivere una canzone che non avesse senso, e effettivamente non ha preso senso col tempo. È un insieme di punchline, ma manco la canto, per quanto non mi fa più effetto. Allora, concordo pienamente su ciò che hai detto tu, ma quando scrivo di solito, molto spesso, mi faccio i viaggioni mentali, che è il giusto. Come senti all'inizio, siamo esseri per sempre cresciuti in epoche diverse. Il mio è un per sempre. Quindi, la metà è una sorta di filosofia dantesca. Però sì, posso fare di meglio, quello tutti, me compreso, dovrei fare di meglio. Non è il massimo che ho fatto. Ok, ma allora, riguardo alla cosa dei viaggioni, ci sta. Però poi, lo so che è brutto da dire, perché uno dice, sai, io sta cosa la faccio, deve rispecchiare me, deve essere me, bla bla bla. Però rimane sempre il discorso. Se poi non arriva alle altre persone, tu comunque sei contento? Cioè, ti fai il viaggione. Se però questo viaggione, alla fine della fiera, non esce fuori così figo come era nella tua testa. Non esce fuori o non esce fuori così comprensibile come era nella tua testa. Ha senso comunque restare fedele alla linea o ha senso magari provare a raddrizzare leggermente, senza eventualmente stravolgere? Perché se tu qui ci senti dei significati, delle cose, è giusto valorizzarle. Ecco, è giusto valorizzarle. Che non è semplice, cioè è sempre un discorso di compromessi, quelli che devi trovare. Per restare fedele alla tua linea, però anche comprensibile alle orecchie degli altri. E spesso la tua linea non è comprensibile alle orecchie degli altri. Quindi bisogna semplificare, bisogna smussare, sempre non sentendo di stare svendendo quello che si fa. Non è semplicissimo, e me ne rendo conto. Però ci sono tante cose che si possono fare su una canzone, così come su un discorso, su qualsiasi cosa. Allora, Aurora non deve essere un inedito su Spotify, può essere un mp3 che mi mandi senza problemi. Una cover, ti posso dire poco su una cover, nel senso ti posso dire se mi piace come l'hai cantata, se è quello che ti può interessare. Però essendo una cover, o come l'hai riarrangiata magari. Però sì, sì, se ci avete messo la faccia, la voce, va benissimo. O qualsiasi cosa. Tecnicamente ho scazzato sulla parte quando sfotto i rapper, diciamo che lo potevo evitare, su questo ho rovinato una canzone. Ma allo stesso tempo so che sono il meglio che c'è sulla piazza, anche se non sono Sfera e Asta. Cos'è la versione low cost? Perché se avessi i soldi questa canzone avrebbe fatto un milione. Ma i coglioni, vabbè, vabbè. Se lo dici tu, chi sono io per contraddirti alla fine della fiera? Sono solo parole, quindi potrebbe essere vero come... no. Andiamo avanti. Vediamo, è la madonna, vi siete moltiplicati. Sepp, ci sei ancora? A parte non ti dovrei chiedere, lo potrei anche vedere secondo me. Ok, Sepp, ti vedo, ti vedo a posto. Quindi, ci hai già detto questa prodotta da te. Ah, cosa che specifico, dovete cantare. Perché se mi mandate solo produzioni non vi do un feedback per ora. Perché... perché per ora preferisco darlo a quello che conosco meglio, e quello che conosco meglio è quello che si fa con la voce. Quindi, se c'è qualche produttore che ha mandato solo produzioni, le può togliere al momento. Poi, più avanti vedremo, ecco. Qui. Allora, già all'inizio mi fa volare. Da quanto tempo fa il rap o sepp? Allora, già all'inizio mi fa volare. Allora, già allora, già allora trendy, Grazie. 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 Allora, ti dico, il coro iniziale con tutte le armonie mi aveva fatto sperare meglio. Ti dico quello che sento. Nella prima parte, soprattutto, sento molta legnosità nel modo di rappare, ok? È proprio... È molto, molto piatto, molto piatto. Cioè, capisco che tu c'hai un sacco di emissione d'aria, c'ho questa voce un po' più quasi soffocata, quasi... È un po' più... Non lo so, un po' più cool come effetto, un po' più bad. Però, comunque, mi manca dell'espressività, cioè mi... mi manca. Anche perché... Anche perché tu comunque non hai una voce molto bassa. E quindi il fatto che tu abbia questa... questa cosa così, un po' mafiosa, però sentendo qual è il tuo vero timbro di voce, perché si capisce che non hai appunto una voce come la mia, ma come quella di tanti altri, che è più bassa, mi fa un effetto un po' forzato. Cioè, sento che fai sta cosa, però è un po' scollata dalla tua vera voce. È un po' meccanico nel modo di rappare, poi magari lo fai appositamente. Non lo so, è un po' cantilena. È un po' cantilena e già qua all'inizio mi avevi perso. Soprattutto dopo un intro che non sapevo che aspettarmi, perché ho detto che cazzo tutte ste armonie, sti cori, ma questo parte, fa un delirio. Andando avanti, vabbè, la parte questa un po' più sostenuta, ci sta... dove era? Sì, un po' meglio, nel senso che non è fuori tempo, non è sbagliato, però anche qua non sento della particolare maestria. Sono solo tre anni, eh. Cioè, io ci ho messo sei anni prima di scrivere qualcosa di decente, quindi prenditi tutto il tempo che ti serve. Però anche quando accelero un po', comunque sento... sento che c'è ancora da fare, diciamo così. Sento che c'è ancora da lavorare. Quando te ne vieni qua sul cantato, devi stare attento perché è molto stonato. E anche qua. Io sono il king delle stonature, quindi non ti sto dicendo che la devi prendere alla prima, alla seconda, o che non devi correggere poi in post con melodia o qualsiasi altra cosa. Però buttarlo fuori con delle stonature forse non è proprio la cosa migliore che si possa fare. Tutta questa parte in cui te la canti un po' di più è tutta quanta più o meno stonicchiata. Che cazzo fai tu? Ah, non lo sapevo. Ah, ma mettono anche i frame sotto se alzo il cursore. Ok. La durata ci sta, perché è breve, quindi ci sta. L'ultima parte era interessante, quella in cui ripeti, non mi ricordo cosa. Questa è interessante, però sai che io effettivamente cioè effettivamente è un po' tutto uguale. L'unica cosa dove un po' cambi è quella cantata, però ti ripeto, le stonature mi danno problemi a godermi l'ascolto. E dall'inizio, con tutte queste armonie, mi sarei aspettato dei cambi. all'interno della canzone. Cioè, leggerare la tua voce con un'ottava sopra, fare delle robe. Invece qua, ovunque vado, cioè sento sempre la stessa intenzione. Accelleri, acceleri, rallenti, però più o meno è tutta quanta la stessa cosa. Poi è una canzone, non è che in una canzone devi far vedere tutto quello di cui sei capace, ne sono consapevole, però io ovviamente sta canzone ho e questo effetto mi fa un po' piatta, un po' tutta simile, e noto delle cose da perfezionare. Però ti ripeto, tre anni a voi a perfezionare. Figurati. Anzi, forse per tre anni va anche benissimo così. Non mi rendo conto i tre anni di adesso a cosa corrispondono, rispetto ai miei tre anni del 2000, dal 2000 al 2003. Troppo meccanico, chiaro. Se poi mi darei modo di farti sentire altro, lo farò. Ma sicuramente, figurati. Assolutamente sì. Che stia scrive, Peppe? Nel frattempo, Peppe Giolli mi scrive le dichiarazioni d'amore. A me stia dipe. So che non ti svenderesti per i soldi, e anche per questo ti stimo tantissimo, perché potresti fare fitto con tutti e farti pagare. Emma. Emma. Non credo dovessi scrivere Emma. Non lo fai perché ami col cuore la tua musica e ti stimo troppo, Remu, ma sappi solo che su un giorno dovesse capitare veramente, visto che si scherza. Sappi che non ti deluderò mai e poi mai. Starò sotto la tua ala regnante, ma sappi che uscirà un bel pezzo. Non ho capito un granché di quello che mi hai scritto, ma mi è arrivato comunque il tuo cuore. Per questo avrò tanta pazienza e volontà di crescere fin quando non dirai che ti piacerebbe un feat. Devo solo crescere anche per la questione di ascolti e ti rispetto il doppio. Ok, Peppone. Tu sei completamente pazzo, comunque. Chi abbiamo poi? Come ti legge? Dren? Dren? 808? Ci sei? Guarda, Stefano, anch'io spero che Peppe Gioglia avrà il suo feat. Ma se te lo fa uno dei miei fratelli, è uguale. Tanto firmano Mudimbi tutti quanti. ecco di qua. Allora, non ho ancora capito come si legge. Si legge Dren? Comunque, hai qualcosa da dire su questa canzone? O ascoltiamo e lasciamo parlare la canzone? Qualche disclaimer? per qualsiasi cosa? Si legge in Rio Contra. Cos'è Rio Contra? Cioè, Rio Contra nel senso di contrario? Vabbè, quindi si legge Dren? Dove esce fuori tutto il mio disagio. Ha ha ha. Perfetta. Recensione, guarda. Se la leggessi su TripAdvisor, starei già lì. Vediamo. Allora, un minuto e quattordici, comunque un pezzo della mia stima te la sei portata a casa. Mo' vediamo. Però, un minuto e quattordici, anche tu parti bene. parti bene. È tutta così. cosa? Buongiorno. bene allora nella salita non mi è piaciuto soprattutto perché salutiamo caffè design nel frattempo che ha fatto un'incursione lato youtube nella salita non mi sei piaciuto perché comunque accelerando non essendo una salita tutto stava crescendo molto figo anche lato produzione sto sto fatto che sia un loop che continua a salire di tonalità mi è piaciuto però lì la voce non gli sta dietro cioè non gli sta dietro nel senso che pure qua super piatto super lineare non mi sale l'intensità non mi sale un cazzo cioè qua si sente solo che stai correndo dietro al beat però non cioè non sei figo come tutta la tutta l'intensità che sta andando su quando invece parte il drop per me va tutto perfettamente cioè assolutamente sì potevi metterci ancora più carica emotiva sicuramente tutto si può sempre fa meglio però ammetto che quando è partito il drop ho detto ok gli perdono la salita non perfettamente on point cioè qua veramente fa proprio l'effetto di non lo so uno che sta a correre sul tapirulan e gli aumentano la velocità del tapirulan tipo ben hill mi fa un po' un effetto tragicomico ecco qui più che tragico questa è bella questa mi basta scrivere un testo per rendermi conto che parla nei fatti è bella cioè io personalmente passo del tempo a questionarmi sul significato di una cosa del genere perché più la giri più continui a girarla e quindi è questa è molto interessante qua mi piace anche come attitudine in realtà vocale perché abbastanza non me ne frega un cazzo cioè mi trasmetti proprio non me ne frega un cazzo quindi quell'intensità che ti dicevo ma te la puoi pure scorda forse come cosa adesso riascoltando cioè era un'altra visione la mia che forse mi sarei aspettato però mi piace sto cosa del non me ne frega un cazzo poi sono diversi modi per tenere quest'attitude bella pure questa no no il resto c'è dal drop in poi per me è giusto vai vai da dio prima è una cosa più difficile e che non hai fatto come avresti dovuto o potuto fare quella parte della salita e il tapirulan di ben hill però bene mi è piaciuto e mi è piaciuto il fatto che sia un minuto e 14 ho adorato soprattutto perché la metà quasi è intro quindi per me ok per me assolutamente ok andiamo avanti vuoi dirci qualcosa ok perfetto ci siamo allora andiamo avanti vediamo chi altro chi altro abbiamo qui lo potrei anna freestyle registrato con il cellulare nell'armadio adoro non ho mai registrato un cazzo nell'armadio e un po mi dispiace non è una scusa per giustificare il fatto che faccio a cagare comunque il test è su soundcloud io sono andrea io do crop in chat se non sono in chat tranquillo puoi recuperare poi recupero il bodo della live eh no andrea io spero che tu sia in chat perché io non commento le canzoni di chi non c'è ma ti vedo in chat quindi ci sei perfetto ecco altra cosa importante non mettete le canzoni e poi ve ne andate perché io ascolto le canzoni di chi perlomeno si degna di rimanere in chat poi se avete impegni mi dispiace però ovviamente do la priorità a chi c'è a chi sta dando il suo tempo ok a piccola specifica che probabilmente capirò ascoltando quando dici freestyle intendi freestyle che ti sei scritto di getto non che hai fatto un freestyle così d'amblè e poi ti sei trascritto il testo giusto per capire perché quelli della mia generazione di freestyle intendevano una cosa ben specifica ma poi peppe jolly mi ha insegnato cosa fate voi giovani adesso vabbè intanto che ci rispondi non ascoltiamo ok Grazie. 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 Allora, mi è piaciuto, una delle cose che mi è piaciuta di più è come spezzavi le frasi, perché veramente per me perlomeno è un po' prendermi a schiaffo il cervello quando spezzi la frase e quindi il tuo cervello calcola come se quello che avessi detto appena concluso di dire fosse una frase di senso compiuto, e invece è solo la metà, e poi arriva l'altra metà e quindi dici, tanto cazzo è arrivato a sta cosa, e mi è veramente piaciuto, mi è veramente piaciuto e me lo riascolterò. Allora, ci sono stati solo un paio di punti in cui t'ho sentito un po' uscire da questa metamorfosi fighissima, che sono tra l'altro, mi sa, i punti in cui parli in siciliano, ma uno dei due, ma non per il siciliano, ma proprio perché perdi un attimo tutta quanta questa atmosfera, che un po' ci sta, però lì in un punto sento che quasi stai rincorrendo. Cioè tipo sto versi, cioè i rimari, versi, e poi il versi era di lacrime amare, cioè nel senso io perlomeno collego le due cose, la parola rimari, avversi, però poi scopo che versi in realtà è l'inizio della frase dopo, e queste cose per me sono oro. Oro veramente perle ai porci, perché l'orecchio comune non è proprio troppo allenato, magari qua in chat siamo tutti abbastanza allenati, però sappiamo tutti che certi giochetti sono per un orecchio un minimo più raffinato, se volete passarmi il termine. Qua il Megula Sastari non perché sei uscito dall'italiano, ma perché sento che corri un po' troppo. E un attimo mi ha dato quel brutto effetto, visto che mi avevi ipnotizzato. Sento proprio un minimo di rincorsa. Il respiro, il... cioè qua ti sento un po'... ti sento meno cool che in tutto il resto. Però è veramente una virgola ed è il mio parere. Vabbè, ma non la riascolto tutta, però a me è piaciuto. È piaciuto molto questo freestyle che immagino fosse scritto, anche se non so se mi avevi risposto a questa cosa. E... hai qualcosa da aggiungere? Qualcosa da dire? Se hai qualcosa da dire, dilla ora... Oh, dilla dopo. Però non so se... se leggerò anche dopo. Intanto... Ci vediamo un po' di roba. E vediamo chi altro c'è. C'è Raffaele, quanti siete? Ah, vabbè, dai, forse oggi ce la facciamo ascoltare tutta. Raffaele, ci sei? Eccolo qua. Volevamo mandarti un inedito più profondo, ma in wave ed era troppo pesante. Beh, mi potevi mandare un link. Te lo metti su... su... Vabbè, voi perché non avete, che ne so, un Dropbox, una cosa del genere, mi condividete il link. Oppure mi condivide dell'MP3, del... del wave. Quindi ascolto questo, Raffaele. Grazie molto a tachicardia. Essendo... Essendo cardiopatico... Ah! Non ti immagini, no, no, no. Grazie molto a tachicardia. Essendo molto timido, vi amo. Grazie da parte di tutti. Che cosa vi volevo dire? Sì, se puoi entrambe, in che... che intendi? No, Raffa, una sola. Scegli tu allora... Manco avevo visto che quella sotto era... era sempre tua. Tua, vostra. Dimmi se la prima o la seconda. Favelas o... o l'altra. La prima, ok. Qualche specifica, qualcosa da... da dirci o da darci su questa canzone. È uscita oggi. A posto. Tutto quello che volevamo sapere. Tutto quello che ci serve sapere su questa canzone. È uscita oggi. Tre minuti. E c'è Michael Jordan in copertina. Domanda. Tu sei l'unica persona che canta? Ce ne sono altre. Se tu non sei l'unica persona che canta, dimmi chi sei. Prima che parto come un treno. No, sono due. Siamo un gruppo. Proviamo a produrli da soli. Quindi tu cosa hai fatto qui, Raffa? Fammi capire esattamente. Se sei solo il produttore. Perché se sei solo il produttore, non ha... non è questo il posto giusto per ascoltarla. Se hai cantato, ti posso dare la mia. Se hai prodotto... non ho un gran che da dare. Se hai prodotto e basta. Tu sei il secondo. Ok. Ora... Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salmo, però chi è esattamente la vera persona che canta sta cosa? Fammi capire, perché sento le cambi di voce ma non capisco. Ok, che quindi non sei tu, perché tu sei alterenchi? È sempre il primo, ok. 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 Allora, ti dico la verità, ho letto anche quello che dice la chat, inizialmente mi ha fatto effetto staglio e olio questa pronuncia in inglese, un po' così, e a una certa mi ha iniziato a divertire, quindi non lo so se è una cosa che mi romperà al prossimo ascolto o se potrebbe diventare una roba. Allora, cioè sulla lunga distanza secondo me tutto rompe il cazzo e alla fine deve rimanere quello che realmente è, quindi parla come parli, canta come canti, poche cazzate, cioè guarda pure Quentin Quaranta, ha voglia a troncare parole, si rompono tutti il cazzo della stranezza, perché non è più stranezza e diventa solo ripetitività. Qui un po' l'effetto LOL me lo fa, perché adesso c'è, hai proprio modificato anche la parola. Delivery for Vivory. Però è quella cosa che mi fa talmente ridere che mi aiuta anche a digerire la canzone, perché nonostante non sia autoironica, però mi fa un po' quell'effetto, cioè nel senso mi viene da pensare, ok questo è un matto, cioè comunque per fare una cosa del genere è un matto, che poi l'ha fatto seriamente, l'ha fatto sul serio, però è un mattacchione. Al di là di questo, non è il mio genere, tanto show off, però ti dico, tutto giusto, cioè tutto ben fatto, non... Allora, qua la tua voce proprio sparisce nelle medio-basse, se ne va a cazzo, sento veramente poco, cioè rispetto alle altre voci che sentivo prima, la tua sta un po' sotto. Allora, in ogni pezzo risulto diverso, ok, interessante, no, no, ma fai benissimo a sperimentare, assolutamente. Io all'inizio avevo tre voci per un periodo, mi ricordo che il produttore da cui registravo mi prendeva pure per il culo per sta cosa, però c'evo queste tre voci, questi tre personaggi, manco mi ricordo che cazzo facevano, però erano tre intenzioni diverse, tre modi di scrivere diversi, quindi va benissimo provare tutto, poi magari diventa davvero il tuo segno con cui ti contraddistingui e te lo porti dietro. Però ecco, ti dico, è un genere che a me non dice niente, è un genere che se lo sentissi in un club, ovviamente ballerei, perché va tutto l'808. Sicuramente non ci rappi male, assolutamente, cioè non vai fuori tempo, c'è pure una buona intenzione, cioè nel senso mi è arrivato qualcosa, poi va sapere se è quello che volevi far arrivare tu, però comunque mi è arrivata quest'attitude un po' gangsta, un po' anche qua, talmente superiore che quasi non me ne frega un cazzo perché sto proprio sopra a tutto e a tutti. Mi è arrivato un po' il Don Corleone, mi è arrivato anche qui. Quindi, se vuoi fare sta roba, stai sulla strada giusta, per quello che ne capisco io. Se poi vuoi scrivere delle canzoni con un tipo di messaggio, stavo per dire con un senso, un significato, però questa alla fine ce l'hanno, il senso e il significato. Il problema è che è sempre lo stesso. Poi sarei ovviamente curioso, però non so se sei curioso tu, di sapere come te la cavi nel veicolare un altro messaggio che non sia lo swag. Ecco, perché lo swag si veicola abbastanza facile ormai, abbiamo swaggato tutti negli ultimi sei anni. Comunque, ok, fai il suo, fai il suo questa canzone. Non me la riascolterei, sicuramente, perché non è il genere che mi andrei a riascoltare. Non mi ha stupito negli incastri, nelle cose. L'unica roba degna di nota è veramente lo staglio e olio, che effettivamente è una roba. E potrei farla riascoltare a qualcuno solo per questo. Direi, sentiti un po' questo che fa staglio e olio, ma secondo te la merda è figa sta cosa, perché non lo riesco a capire. Questa è l'unica cosa, quindi un hook comunque ce l'hai qui. Poi vediamo nelle altre, magari settimana prossima se ti va a dimandarcele, ascoltiamo. Ok, esatto, volevamo farti sentire un pezzo più impegnato. Vabbè, settimana prossima, senza problemi, stiamo ancora qua. Spero un attimo che mi tocco. Oh, è arrivato Patch. Oh, ciao Patch. Come stai, fratamo? Grazie Mzu per averci deliziato con quella punchline, che mi rifiuto di leggere ad alta voce. Sei veramente un caro ragazzo. Vediamo, chi altro manca? Chi altro manca? Chi altro manca? Benny. Ricordo questo nome, perché ricordo questo nome? O forse no, forse mi sbaglio, solo perché vedo... Ma perché avete tutti quanti una foglia di fianco al nome utente? È un codice segreto. Ah, è la prima volta che ti scrivo qui, ok. Quindi no, non ricordo quel nome, perfetto. È impossibile che lo ricordi. Però mi sembra di averla già vista, sta B. Benny, ci sei? Sei tu, Benny? Mi devi dire qualcosa su questa canzone? Io mi vado a versare un altro teino, se non vi dispiace. Un secondino, eh. Faccio subito, subito, ve lo prometto. Oh no, non c'è più soundtrack. Un secondo perché? C'è proprio l'arsuora. C'è proprio l'arsuora. C'è un po' di negozia. C'è proprio l'arsuora. Allora Tenebrini rimandalo L'ha rimandato il testo Scusa la canzone Se non l'abbiamo ascoltato la scorsa volta Proviamoci stavolta Comunque ok Base presa da Youtube su cui ha scritto sopra Francine non so Quanto te consumo Non tanto quanto credi Ne berrò solo il pomeriggio Due o tre Non ne bevo realmente di più E soprattutto Soprattutto non lo bevo Realmente tutti i giorni E soprattutto non è tutto te Quindi 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 Dove eravamo 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 Qui da Benny Che è Rina Cazzo è uno Pacciani Uno Rina Che problemi c'ha sta chat Poi finite in uno studio Ok Non è tutto te Infatti anche a me non veniva la frase Però quando ho detto non è tutto te Pensavo proprio una cosa del genere Però non mi veniva come chiudere la frase Grazie mille per aver schiacciato sul mio assist Grazie mille per aver guardato il video 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Allora, Grazie a tutti. 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 In America. Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 se. a tutti. a tutti. a tutti. che. a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. ti prego. limitati. luca. a tutti. . farlo. senza problema. e vediamo. a tutti. ci unisce. ancora di più. come community. a tutti. quindi. a tutti. ti. a tutti. tu. tu. ti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. . . . .